Maria in maternità al quarto mese, Ilaria a gravidanza arrivata al termine, Giulia ne ho mamma. Hanno tutte lo stesso problema iniziato con la gravidanza. Maria soffre di stanchezza e ha zero energia, si addormenta ovunque e ha sempre fame. Ilaria ha tanta spossatezza, acidità e ha preso 15 chili. Giulia ne ho mamma di due bimbi, non riesce mai a riposare e si addormenta ovunque. Allattare le dà tanta fame e ha preso altri 10 chili dopo il parto. Quando si diventa mamma succede di avere un calo di energia, prendere chili e non piacersi più. Ma Giulia ha scoperto un segreto sui social. Così si è informata, ha deciso, ha preso in mano la sua vita, l'ha trasformata. Ora Giulia ha riconquistato la linea di quando era ragazzina. Sembra che abbia quattro braccia, quattro gambe e tanta energia. Addirittura sta facendo carriera da casa mentre segue la famiglia. Oggi è diventata una mamma premium e ispira le famiglie ad uno stile di vita più sano e naturale. Mai più spossatezza, sonno e chili di troppo. E tu vuoi scoprire il segreto di Giulia? Invia un messaggio o scrivi anche io nei commenti. Torna energica e in forma in soli 120 giorni. Entrerà in contatto con un gruppo di mamme e amiche che stanno avendo già questi risultati. Diventa una mamma premium!